Ciao a tutti. Benvenuti a un nuovo video su questo canale. Oggi vi porteremo un'intervista esclusiva con la famosa cantante Laura Pausini. In questa emozionante conversazione, Laura condivide dettagli intimi del suo matrimonio con Paolo Carta e ci rivela perché le persone dicono che non sono una coppia, normale. Continuate a guardare per scoprire tutti i dettagli su questa storia d'amore unica. Laura Pausini. Celebre artista e madre di una figlia. Paola. Ci apre il suo cuore e racconta come lei e Paolo Carta mantengano un rapporto speciale. Nonostante le loro personalità diverse, Laura svela l'attrazione pazzesca che li lega. La cantante condivide anche la sua profonda ammirazione per Paolo come padre. Sottolineando quanto sia stato importante per lei conoscere il suo rapporto con i figli del suo primo matrimonio. Laura ci parla anche della loro adorata figlia Paola e di come la sua indipendenza sia fonte di meraviglia e, al tempo stesso, di preoccupazione. La cantante condivide le sfide di conciliare la sua carriera musicale con il desiderio di essere sempre accanto a sua figlia. Rivela quanto sia importante per lei mantenere il legame con Paola e come abbiano organizzato i loro impegni in modo da rimanere il più possibile vicine. E così. La storia di Laura Pausini ci mostra l'amore incondizionato tra una madre e sua figlia. Il legame speciale con suo marito e la forza nel mantenere una famiglia unita nonostante le sfide. Vogliamo sapere cosa pensate di questa storia e dei vostri pensieri sulla maternità e l'equilibrio tra carriera e famiglia. Lasciateci un commento qui sotto con le vostre opinioni e, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche per non perdere i nostri prossimi contenuti. Grazie per averci seguito. E a presto. Grazie. Grazie.